Dario Morani, capitano di questa San Piar d'Aranese, oggi è una giornata di festa dopo quella col Savone. Oggi è stata una giornata di festa, è una giornata importante, soprattutto per noi che siamo qua da tanti anni. Ci abbiamo creduto e finalmente è arrivata questa promozione. Sono contento, ce la votiamo tutti. È stato un bel campionato giovedì, è stata una grande partita. Ce lo meritiamo. Oggi è una partita un po' col brivido il primo tempo, avete giocato solo metà partita. Sì, è dura perché comunque l'ultima che abbiamo fatto è stata con il Savone. Poi abbiamo fatto due settimane di allenamento blando e con la testa magari un po' sui piedi. Però dai, l'importante è la vita. Dopo il secondo quando è andato tutti in scena. Ti chiedo se quest'estate, quando vi hanno messo assieme al girone col Savona, ti aspettavi questo epilogo? Sì, perché sulle maglie abbiamo scritto contro ogni previsione, la San Piar d'Aranese. Però dal primo giorno che ci siamo ragionati sapevo che era un gruppo forte di ragazzi forti. Si sono aggiunti a noi giovani della Juventus veramente in gamba, forti. Stanno giocati a calcio. Io ci ho sempre creduto, l'ho detta l'andata col Savona. E lo ripeto, ci sono già meritati. Ci ho sempre creduto, io personalmente. Un campionato voluto e meritato perché battere due volte il Savona non è proprio cosa facilissima. Abbiamo accettato il Savona, l'abbiamo accettato lì, l'abbiamo accettato qua, l'abbiamo accettato tutti. Qua sono solo il Sancino, quindi vuol dire che siamo sempre stati lì in testa. Vuol dire che ce lo siamo meritati. L'ultima cosa a dare, dedica a finale. Ma la dedica, va bene, soprattutto alla mia famiglia, ai miei figli, mia moglie. Poi la dedico alla San Piar d'Aranese. E' tanti anni che sono qua e se lo meritano tutti. Da tempo che inseguiamo questo percorso siamo partiti. Io sono arrivato qua sette anni fa con Migliaccio. C'è stato Satta, Messina, Carletti. E abbiamo sempre puntato a vincere. Quest'anno ci siamo riusciti. Un pezzo di ognuno è rimasto qua. È rimasta la San Piar d'Aranese. E per questo sono contento e spero che sia una bella promozione. Siamo sempre lì. Grazie Dario, complimenti.